Io sono molto ottimista, sono molto ottimista. Noi possiamo resistere anche tre anni senza un governo, per battute i giornalisti non scrivano. Non è così, non credo che ce lo possiamo permettere invece adesso fuori dallo scherzo. Siamo un paese molto solido, molto forte, non credo che ci possiamo permettere di stare a lungo senza un governo, ma credo però che ci possiamo permettere invece di continuare a impiegare il nostro tempo per coinvolgere sempre di più le persone, le associazioni, la società civile, farle diventare sempre più protagonista. Questo è il senso della mia battuta.